Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato resistente, durevole e soprattutto perché è il giusto alleato per chi cerca un prodotto versatile e di qualità. Un filato che possiamo definire cucitutto, quindi già solo il nome è una grande garanzia. Se poi è accompagnato dalla qualità gutterman diventa una vera e propria certezza. Analizziamo quindi insieme nel dettaglio il filato cucitutto gutterman. Eccolo il nostro filo cucitutto. La composizione di cui si compone questo filo gutterman cucitutto è 100% poliestere. Parliamo quindi di un filo sintetico ma di elevata qualità, adatto al cucito a mano e con l'ausilio di macchina da cucire. Può essere davvero utilizzato per qualsiasi cosa. Le varianti di colore presenti sono davvero tantissime, qui ne vediamo alcune. Questo è il colore 170 che tende quindi ad un beige un po' più scuro. Questo invece è il colore 394, un bel rosso. Quest'altro invece è un 382, tende quindi ad un bel fucsia. Questo invece è il colore 247 e rappresenta uno dei viola più tipici. Questo è l'158 che rappresenta invece la gamma di colori appartenenti a Lilla. Per quanto riguarda quelli del rosa abbiamo selezionato questo che è il 758. Passiamo adesso invece a diverse tonalità di verde. Abbiamo da questo petrolio che è rappresentato dal colore 189, questo classico verde foresta che è il 237. Abbiamo questo che invece possiamo definire in un certo modo un verde prato denominato 336 per poi concludere con gli ultimi due. Una bella tonalità di celeste vale a dire il colore 28 e una bella tonalità di blu vale a dire un 386. Ma questo filato non smette di stupirci, infatti notate bene alla base della rocchettina potrete trovare questa sorta di dentatura che vi aiuterà a fissare per bene il filato una volta che avrete terminato di utilizzarlo. In questo modo sarà davvero molto pratico riprenderlo al prossimo utilizzo perché saprete esattamente quella che sarà la parte iniziale. Il filato che abbiamo appena visto merita davvero un po' di attenzione in più perché non parliamo di un classico filato, parliamo di un filato davvero che possiamo definire top, selezionato appositamente da Tessiland che lo ritiene adatto soprattutto perché invisibile certo ma anche soprattutto funzionale. È adatto per essere lavorato su qualsiasi tipologia di materiale, può essere utilizzato sia con il semplice ago e sia per le macchine da cucire. Badate bene qualsiasi macchina da cucire e qualsiasi ago. Se però volete seguire un consiglio che vi diamo noi di Tessiland sicuramente l'ago con spessore 60-70 è quello che potrebbe al meglio permettervi l'utilizzo di questo filato. Non è estremamente lucido quindi si può tranquillamente utilizzare anche per il ricamo. A differenza del cotone ha una maggiore elasticità e quindi resistenza alla trazione. Ovviamente poi soprattutto se decidete di utilizzare questo filato per le macchine da cucire sia il punto che la lavorazione vanno adattate in base al tessuto che deciderete di utilizzare. I colori che abbiamo visionato finora credetemi sono davvero una piccolissimissimissima parte di tutta la vasta gamma di colori che invece troverete sul sito Tessiland in modo tale che davvero possa essere impercettibile quindi invisibile e di conseguenza che si possa adattare perfettamente a qualsiasi tessuto cordino o creazione che deciderete di fare. E poi parliamo anche del formato davvero piccolo impercettibile anche quello in modo tale da poterlo inserire praticamente in una borsetta in un piccolo contenitore o in un piccolo kit e da portare sempre con sé. Il filato cuscitutto gutterman è sicuramente il filato da cuscito giusto per te. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri nuovi articoli vecchi articoli edizioni di tutto e di più. Noi ci vediamo al prossimo prodotto ciao ciao